Ciao a tutti, vi presento il nostro ospite, Cappelli Gianluca di Advigio SRL. Di cosa vi occupate? Buongiorno, noi ci occupiamo di analisi dati, cioè business intelligence. Aiutiamo le aziende a usare al meglio i propri dati, a trasformare i dati in informazioni funzionali al processo decisionale aziendale, un processo decisionale che può essere a qualsiasi livello, dai responsabili di reparto fino al board. E come mai vi trovate qui a Rimini? Ci troviamo qua a Tecna, a Rimini, perché è una fiera chiaramente molto importante, una fiera storica e abbiamo l'ambizione di presentare alcuni prototipi per la gestione dell'analisi di produzione, quindi per gestire al meglio e controllare al meglio le linee di produzione con l'interfacciamento con i macchinari e gestire in real time tutte le fasi del processo e le varie anomalie per cercare di capire come ottimizzare e dare maggiore efficienza e efficacia alla produzione. Chiaramente il nostro intervento qui è focalizzato sulla produzione, ma gli ambiti di analisi per noi possono essere qualsiasi, dalla contabilità alle vendite, agli acquisti, alla parte finance. La nostra esperienza non è solo in questo settore della produzione di superficie, ma anche in tantissimi altri settori merceologici. Grazie mille e buona fiera. Grazie a voi, arrivederci.